...mossi dalla città e rimandati a causa della pandemia, prenderanno il via a partire dal 21 ottobre con gli Epic Eagles. Quest'anno saranno proposti per 5 mercoledì consecutivi in versione virtuale. Si esibiranno anche i Queen Flash, gli All Journey, i Chart Toppers Tour e i Beach Party Boys. Abbiamo avuto il piacere di intervistare il sindaco Maurizio Bevilacqua che ci ha parlato della promozione artistica e culturale. È molto importante perché oggi come oggi noi viviamo essenzialmente in un mondo virtuale per quanto riguarda la cultura, le arti e via di seguito. Cioè questi grandi concerti on the park, che vuol dire i concerti all'aperto, che si facevano una volta, dove migliaia e migliaia di persone partecipavano, ovviamente tramite la tecnologia dobbiamo creare questa espressione culturale, però ovviamente non si può fare in pubblico perché dobbiamo ridurre la trasmissione del virus Covid-19, quella è una cosa molto importante. Però da una parte bisogna anche capire che dobbiamo continuare a vivere e anche divertirci un po', ascoltare la musica, apprezzare l'arte, apprezzare la cultura. Secondo me questa idea di andare avanti virtualmente, credo che crea l'opportunità di manifestare questa espressione culturale nella nostra città in una maniera molto efficace, in una maniera che rifletti anche un po' le esigenze degli individui che vogliono assorbire la ricchezza culturale della nostra città.